Dopo l'accesso a Swite, la prima cosa che visualizzi è il tuo pannello. Si tratta dell'area dove puoi avere una panoramica dei tuoi siti, accedere ad ognuno di essi e crearne di nuovi. All'interno del pannello puoi vedere il tuo sito, o i tuoi siti se ne hai creato più di uno, e su ciascuno puoi visualizzare subito la data dell'ultimo aggiornamento, i contenuti da approvare e i social che sono collegati. Cliccando su ogni sito, accedi direttamente alla gestione del sito stesso, dei suoi contenuti e delle sue impostazioni. Per maggiori dettagli su questa parte, consulta il tutorial dedicato. Da quest'area puoi anche creare un nuovo sito. Per farlo ti basta cliccare su Crea nuovo sito. All'interno del pannello puoi visualizzare anche le notifiche, cliccando su questa icona. Riceverai delle notifiche su Swite se per esempio ci sono dei contenuti in attesa della tua approvazione nella gestione contenuti del tuo sito. Puoi anche avere accesso alla tua area account. Ti basta cliccare sull'icona del tuo profilo qui in alto nel pannello, dove puoi modificare i tuoi dati oppure accedere alla gestione dei tuoi domini, consultare i nostri tutorial, le guide, contattare l'assistenza, inviarci suggerimenti, consultare la nostra informativa sulla privacy e i nostri termini e condizioni. Infine, sempre nella tua area account, puoi cliccare il pulsante Esci se desideri fare logout dal tuo account Swite. Grazie a tutti. Grazie a tutti.